Il cerimoniale vuole che si dica grazie per essere qui questa sera per parlare di regione e di regione come occasione di sviluppo. Lo sviluppo ha tante chiavi di lettura, può essere interpretato in tanti modi, però richiamo la vostra attenzione su un particolare, siamo a Exodus, Exodus nasce 25 anni fa, cosa c'entra Exodus come occasione di sviluppo? Quando nacque qualcuno pensava che questa sarebbe stata una sorta di enclave, di ghetto e in realtà non è stato così, Exodus ha aperto la mente a molte persone di Cassino e oggi addirittura apre se stessa alla città, perché? Perché è un'occasione di sviluppo essa stessa. Per spiegare che cosa è questa occasione di sviluppo chiedo al direttore Luigi Maccaro di raggiungerci perché lo sviluppo passa anche attraverso queste realtà. In che modo Luigi? Grazie, buonasera, benvenuti, benvenuto Presidente, grazie dell'onore che ci ha fatto di essere qui oggi e benvenuti a voi in questa casa che è sempre più una casa aperta come giustamente diceva Alessio. Exodus nasce una trentina d'anni fa per l'iniziativa di Don Antonio Mazzi, lo conoscete tutti benissimo, vive a Milano ed ha una quarantina di comunità sparse per l'Italia e anche all'estero. Per almeno vent'anni in questa casa ci siamo occupati di accogliere persone che venivano da un percorso molto difficile di prostituzione, anche di terrorismo, di droga, di disagio molto grave, di marginalità forte. Abbiamo poi incominciato a incontrare i ragazzi delle scuole perché è importante fare prevenzione, è importante dire ai ragazzi, mettere i ragazzi sull'attenti rispetto alle sostanze, rispetto all'alcol, rispetto al gioco, rispetto ad una cultura del consumo che vuole una normalizzazione anche dell'uso di droghe. Ma non ci è bastato. Abbiamo visto che andare tutti i giorni nelle scuole non era sufficiente perché le scuole sono tante, i ragazzi sono tanti, gli insegnanti in difficoltà sono tanti, le famiglie in difficoltà sono tante. Allora abbiamo pensato di trasformare noi stessi da comunità di recupero in comunità giovanile. Abbiamo cominciato questo percorso ormai 5 anni fa e ci siamo detti, come ha detto qualcuno più importante di noi, con Salvatore che è responsabile della sede di Exodus di Viterbo, immagina se qui anziché l'orto ci fossero dei campi sportivi. Immagina se lì anziché il laboratorio di Falegnameria ci fosse un luogo dove i ragazzi possono venire a giocare, immagina se lì in quella casa ci fosse una foresteria dove accogliere ragazzi, scout, ragazzi degli oratori che ogni estate vengono qui a centinaia per fare esperienze di condivisione con la nostra comunità. Solo quest'anno abbiamo avuto circa 300 ragazzi che hanno fatto esperienze estive qui, abbiamo avuto 2000 bambini delle scuole elementari che sono venuti a visitare la nostra fattoria didattica, abbiamo avuto centinaia di ragazzi che come anche oggi, centinaia di bambini stanno qui, usano i nostri campi. Questa non è più la comunità di Exodus, questa è la comunità di Cassino, è una comunità giovanile, è un posto dove le famiglie non hanno più paura di portare i loro ragazzi e i loro bambini e venendo qua abbiamo la possibilità di raccontare un'esperienza, un'esperienza che noi vorremmo che fosse modello per la società intera, una società possibilmente basata sulle relazioni e non sul profitto, sull'incontrarsi tra le persone e non sulle dinamiche di potere e mi pare che in questi anni la quantità di persone che frequentano questa casa sia aumentata tantissimo e continuano ancora oggi le scuole. Proprio stamattina un insegnante che ha purtroppo al suo istituto un po' in Malearnese ci ha chiesto se poteva venire a fare le attività di educazione fisica su questi campi, ovviamente in maniera del tutto gratuita perché la gratuità è un elemento che contraddistingue questa esperienza e questa esperienza vuole anche essere un modo per contagiare il territorio e contagiare le istituzioni e noi diciamo sempre che siamo un po' a scavalco tra il volontariato e l'istituzionale, siamo un servizio pubblico, siamo un servizio accreditato dalla Regione. Finalmente quest'anno dopo 12 anni siamo riusciti a firmare un accordo con la Regione Lazio per aumentare la retta che percepiamo per i ragazzi delle comunità e però abbiamo bisogno di una mano in più perché la parte della prevenzione, la parte del recupero, la parte del reinserimento lavorativo in qualche modo dopo 25 anni l'abbiamo sistemato. Quello, l'emergenza che abbiamo oggi è offrire ai ragazzi delle occasioni per stare insieme con la musica, con lo sport, con il teatro, con il volontariato e sulle comunità giovanili secondo me, secondo noi, con la Regione Lazio possiamo scrivere delle pagine nuove, possiamo scrivere delle esperienze, possiamo raccontare delle esperienze nuove e valorizzarle attraverso un sostegno che potrebbe suggellare la svolta di questa innovazione sociale che stiamo tentando di fare da 25 anni. Grazie. Grazie Luigi, ma grazie soprattutto per il lavoro che fa Exodus. Intanto Marino assicura che non si pagano i posti a sedere, quindi invece di stare in piedi potete tranquillamente accomodarvi, anzi forse facciamo anche la lotteria, vincete un bicchiere d'acqua se vi mettete belli comodi. Allora Marino, si potrebbe dire ti piace vincere facile perché insomma vado a lavorare in Regione, una Regione dove lavorare è relativamente facile perché una delle cose più impegnative è mettersi sul treno, poi la cosa difficile è arrivarci in orario a Roma. Insomma lo sviluppo passa anche attraverso queste cose, c'è molto da fare. Sì, prima di tutto grazie a tutti, grazie agli amici che hanno risposto all'invito, grazie a te caro Presidente Nicola, Zingaretti. Effettivamente sì, andare a Roma oggi comporta i tempi di percorrenza che sono un po' ricordano un po' quelli del dopoguerra, quindi non è cambiato granché, questo non è colpa della Regione, bensì è colpa, un po' di colpe ce l'hanno Ferrovie dello Stato RFI, ma sicuramente il Presidente Zingaretti ha voluto subito affrontare la questione dei treni e ha dato subito una risposta. Ovviamente ce ne vuole ancora altro per dare come dire sollievo ai tanti pendolari. Io prima di fare il Consiglio regionale facevo il pendolare, lavoravo a Roma in un'azienda, sono adesso in aspettativa, finito il periodo del mandato elettivo sicuramente tornerò in azienda a Roma a fare, torno a fare il pendolare. Un momento, questa è una notizia, parentesi, significa che non ti ricandidi. Ma perché la politica finisce, mio padre mi ha insegnato che la politica finisce, prima o poi finisce, bisogna essere corretti e seri con se stessi, io non vivo di politica, vivo di tutt'altro e in questo periodo cerco di fare eletto in Consiglio regionale, cerco di rappresentare al meglio quello che è il mio dovere istituzionale e rappresentante del territorio, fare il Consigliere regionale. Presidente, di fatto qui siamo a Exodus dove ci sono dei ragazzi che hanno inseguito un sogno, all'inizio forse lo hanno inseguito nel modo sbagliato, sono venuti qui inseguendo il sogno di ritornare a reinserirsi nella società. Di fatto anche questo mandato regionale insegue una serie di sogni. Credo che neanche tutti siano stati detti in campagna elettorale perché probabilmente avrebbero messo la camicia di forza a Nicola Zingaretti, neanche gliel'avrebbero fatta finire la campagna elettorale. Uno dei sogni più folli che però si sta realizzando è il sogno di una sanità completamente diversa. in pratica che cosa accade? Siamo stati abituati che per ogni minima cosa siamo sempre andati negli ospedali. Poi arriva questo signore e dice un momento negli ospedali ci andiamo per urgenza ed emergenza. Io mi invento un'altra cosa che si chiamano case della salute dove trovate il medico di famiglia che nel frattempo chiude il suo ambulatorio e riceve lì le persone che deve visitare per le cose ordinarie, dove può fare la ricetta, dove evitiamo di affollare l'ospedale per le visite di routine, le facciamo lì e direttamente lì decidiamo se bisogna andare nell'ospedale più grande perché c'è un intervento da effettuare. Questa idea di sanità, Presidente, a che punto di realizzazione è? Ma innanzitutto grazie, grazie a voi, grazie a Marino. L'idea di questo modello di sanità non è mia o di un pazzo che si inventa i modelli, è la sanità che in molte regioni italiane si è affermata e che dice una cosa semplice. Gli ospedali servono per le cure e le patologie gravi ma poi per la prima cura deve esserci nei territori, soprattutto per gli anziani ma non solo per loro, una rete socioassistenziale per la prima cura che va incontro ai bisogni più elementari. Voi sapete che nei codici dei pronto soccorsi ci sono quattro codici, bianchi, verdi, giallo e rosso, noi abbiamo nel Lazio 85% degli ingressi nei pronto soccorsi inappropriati, cioè per motivi che in altre regioni italiane, in molte regioni italiane, possono essere risolti in altri modi. La tragedia del Lazio è che noi per politiche sbagliate abbiamo meno ospedali, meno pronto soccorsi e nessuna rete di assistenza socio-sanitaria. E quindi noi abbiamo iniziato un lavoro per porre fine al cancro della nostra regione. Otto anni fa, e questo alle persone non glielo racconta nessuno, la sanità del Lazio è andata in default, noi su 9 miliardi di fondo sanitario avevamo 2 miliardi e 300 milioni di disavanzo l'anno, il peggiore d'Italia in proporzione, tant'è vero che abbiamo la vergogna di avere da soli il 50% del debito di tutte le regioni italiane ce l'ha in Lazio e questo ha portato al commissariamento, al blocco del turnover, quindi da 8 anni ogni 100 persone che escono e vanno in pensione noi ne possiamo riassumere solo 10, questo ha voluto dire che 8 mila unità sono uscite dalla sanità del Lazio e quindi con tanti decreti che ahimè voi conoscete bene, l'unico modo per far abbassare la curva del disavanzo è stato chiudere, chiudere, chiudere e licenziare. Quello che noi stiamo provando a fare è quello di proporre un nuovo modello di sanità, primo che ha chiuso le macro aree, le macro aree erano degli spicchi che partivano dal centro della capitale e arrivavano fino alle province e quindi dicevano a voi, a Cassino, che vi dovete andare a curare degli ospedali di Roma e noi abbiamo detto no perché le aree della sanità devono essere omogenee e territoriali, secondo abbiamo detto costruiamo un nuovo modello di sanità con questa rete socioassistenziale e soprattutto poniamo gli ordini della sanità in ordine non chiudendo più i posti letto o gli ospedali ma innovando, mettendo ad esempio una centrale unica degli acquisti che come sta accadendo unisce non le AS, perché io l'ho letta la polemica di quest'estate, Zingaretti vuole chiudere la AS con Latina, no, noi abbiamo detto le AS rimangono, però se invece che 100 siringhe per Frosinone ne comprano insieme 200 per Frosinone Latina forse è più competitiva rispetto agli acquirenti, quindi uniamo i servizi, uniamo come si compra, abbassiamo gli sprechi e vedrete che le cose cambiano, noi abbiamo vinto perché voi da due anni abbiamo i tavoli di rientro, ogni tre mesi dobbiamo andare al MEF, al Ministero della Salute e della Sanità a fare gli esami, da due anni abbiamo sempre avuto giudizi positivi e pensate che abbiamo oggi recuperato soldi nostri del 2012 che non ci davano per un totale di un miliardo e 400 milioni che erano bloccati al Ministero delle Finanze perché ogni anno non veniva rispettato ogni tre mesi il nostro lavoro. Questo ha cambiato le cose? Sta cambiando le cose, vi dico solo che non solo stiamo portando nella sociaria a Frosinone in tutta la provincia la rete ospedaliere a più 101 posti letto, ma proprio ieri ho firmato l'ultimo pacchetto di deroghe del personale e noi possiamo dire che finalmente, finalmente in questa provincia si è cominciato a riassumere perché ieri sono state altre 22 ma in totale noi abbiamo dato già prime 54 deroghe del personale che più le 36 della REMS di Portocorvo stanno portando nella rete sanitaria della provincia di Frosinone oltre 90 nuove unità di personale, la prima volta dopo 8 anni. Momento Presidente, avete fatto ieri sera 22 assunzioni in sanità? Abbiamo autorizzato la ASL perché grazie ai conti in ordine abbiamo vinto una grande battaglia, lo Stato ci ha detto il blocco del turnover non è più al 10%, quindi su ogni 100 che escono ne può riassumere solo 10, il blocco del turnover si passa al 30% e quindi noi oggi possiamo riprendere politiche di assunzione legate a quello che vogliamo fare nel territorio e io ho non un sogno, perché un anno fa avrei detto che era un sogno, io ho la scommessa che se noi nel 2016 riusciamo ad arrivare all'obiettivo di disavanzo vicino allo zero il blocco del turnover si supera e possiamo finalmente tornare nei nostri territori ad assumere il personale sanitario che serve per offrire ai cittadini una buona sanità. Questa battaglia la stiamo vincendo, basta chiusure nuove politiche di ospedali e nuove politiche di assunzione. Presidente io quando non capisco poi ci torno sopra, ma la professoressa Mastrobuono in pratica è autorizzata a fare 22 assunzioni di medici in questa ASL. Da questa mattina sì, può assumere. E allora qui ci va l'applauso, 22 medici in più, ho capito bene? 22 medici in più. Ora. E allora visto che mi provochi, visto che l'altro grande problema che avevamo, come sapete, lo ha detto Marino, era l'immenso debito, è bene che ai cittadini del Lazio si dica anche una grande verità. La tragedia del pendolarismo non è figlia dei cattivi che non sanno come viaggiano i nostri pendolari, ma ha un motivo molto chiaro. E cioè che noi avevamo sottoscritto con le ferrovie il contratto di servizio, cioè la regione decide che devi fare questo, io ti pago e tu lo fai e da quattro anni noi non riuscivamo a pagare i debiti con le ferrovie. Oltre 200 milioni di euro. E quindi le ferrovie non compravano i treni. Noi, appena arrivati, siamo riusciti a pagare il contratto di servizio sulle ferrovie. Questo ci ha permesso di sbloccare l'acquisto di 26 nuovi treni, due li abbiamo messi sulla tratta su Cassino e la credibilità che abbiamo raggiunto ci sta portando a firmare il nuovo contratto di TPL, cioè del trasporto pubblico locale con le ferrovie, che non in un futuro che non si sa quando succederà, ma oltre ai 26 nuovi treni che stanno arrivando, perché circa 18 già li abbiamo messi sulla rete ferroviaria, ci siamo presi l'impegno e lo faremo che entro il 2020 tutti i treni dei pendolari del Lazio saranno treni nuovi con l'aria condizionata a doppio passaggio aumentando e di molto la frequenza e il numero orario di treni del pendolarismo, perché adesso con i conti in ordine possiamo pagare i fornitori e le ferrovie si stanno preparando a fare sulla nostra rete ferroviaria uno se non il più importante investimento sulle infrastrutture che le ferrovie faranno in Italia nel prossimo sottoscrizione dei contratti di TPL e questo lo possiamo dire con orgoglio e grazie al fatto che ci siamo stufati di essere sempre l'esempio negativo per l'Italia, cominciamo su tanti punti ad essere persone che devono essere rispettate, io ti pago, tu mi dai il servizio, come chiedono i cittadini. E arrivano pure i treni, ora dati della settimana scorsa, infocamere, quindi le camere di commercio a livello nazionale fanno due conti e dicono beh perbacco stanno aumentando le società, la regione italiana dove c'è il maggior numero di nuove società è la Calabria, la seconda regione è il Lazio. Qualcuno può pensare vabbè sono partite IVA oppure è gente che ha cambiato ragione sociale, poi però vai a cercare un posto letto in albergo a Cassino se viene un parente in questi giorni, non c'è un solo posto letto libero negli alberghi di questo territorio, anzi sta ripartendo, mi dicevano ieri sera, l'edilizia perché sono in corso tutta una serie di piccole ristrutturazioni per mettere a disposizione di Fiat Chrysler tanti bed and breakfast per ingegneri e per coloro i quali fanno la formazione. Ora, al di là del caso specifico Fiat Chrysler, però per essere i secondi in Italia qualcosa vi siete dovuti inventare non solo nella sanità ma anche un modello che potesse rendere attraente investire nel Lazio. La prima cosa può sembrare banale ma chi fa impresa che sta qui o chi cerca lavoro lo sa, noi abbiamo innanzitutto prima cosa pagato i debiti, chi lavora deve essere pagato e per capire quanto il Lazio non era competitivo basta raccontare che se un imprenditore investiva in Lombardia a maggio 2013 veniva pagato dalla regione Lombardia in media dopo 60 giorni, se faceva lo stesso investimento nel Lazio veniva pagato come media quindi se gli andava bene dopo 1015 giorni. Voi capite che una regione che ha la fiscalità più alta tra le più alte d'Italia perché dovevamo il debito sanitario, lo Stato che paga dopo 1015 giorni, il livello di infrastrutture della mobilità bloccato perché non pagando i debiti non c'erano i treni e il parco autobus del Codral con gli autobus che prendono fuoco perché non si riuscivano a comprare autobus da anni, era un territorio non competitivo. Siccome si investe e non possiamo chiedere agli investitori di investire per beneficenza, in questa regione noi abbiamo capito che non si poteva continuare a vivere su un passato glorioso, quello della cassa del mezzogiorno, dell'information technology, della metallurgia, della metallmeccanica che pur affatto ricca una parte di questo territorio perché c'erano dei problemi enormi e allora abbiamo preso delle misure, ripeto, primo pagare i debiti, noi sui 12 miliardi di euro dei debiti commerciali ne abbiamo pagati 9 miliardi, secondo altra follia assoluta, io ho fatto una passeggiata venendo qui, mi sono pure un po' ubriagato, ma guardando il vostro vino, il vostro olio, i prodotti enogastronomici, il peperone, le olive, il formaggio, noi ci stiamo accorti che viviamo nella follia, per cui nel mondo c'è ad esempio una domanda di enogastronomia italiana che è valutata in circa 90 miliardi di euro di consumo, però l'Italia ne esporta 30 miliardi e c'è un buco, questo buco è dato dal fatto che girano nel pianeta prodotti agricoli made in Italy ma che non hanno mai visto l'Italia, magari storpiano il nome e lo vendono sui supermercati americani o cinesi o russi come prodotto italiano e noi ci siamo accorti dati ufficiali del 2013 della regione Lazio che il Lazio investiva per l'internazionalizzazione dei prodotti, bilancio 2012, 0 euro e questo voleva dire lanciare non tanto solo la Fiat che è un gigante e che non ha bisogno del sostegno della regione Lazio per internazionalizzare, ma i produttori che stanno su questa via, quella rete di PMI che ha fatto ricco questo territorio rispetto all'esigenza di non vendere più solo nel mercato interno che se muore muore anche l'azienda ma dentro l'internazionalizzazione, lasciare queste imprese totalmente da sole e quindi se ha l'imprenditore che ha dentro i soldi e l'intelligenza ce la fa, chi non ce la muore, chiude, licenzia e c'è la desertificazione e allora abbiamo ripreso una cosa semplice ma drammaticamente rivoluzionaria che si chiama politica industriale che ha tre basi, guarda, reindustrializzazione, è partito ora il bando Call for Innovation, 70 milioni di euro e stiamo girando tutte le camere di commercio delle province perché stiamo preparando i bandi per i produttori non da Roma con filiere che non conoscono di territorio ma si chiama Call for Innovation cioè chiamata per innovare dove chiediamo ai comuni, ai sindaci, ai territori, agli imprenditori ma a voi che vi serve per cominciare a cambiare come si produce, dove si produce, noi ci mettiamo 70 milioni di euro per aiutare le aziende a rinnovarsi e quindi reindustrializzazione, secondo internazionalizzazione, ma è evidente che chi produce 1500, 2000 o 4000 o 5000 bottiglie di vino non può andare a Vinitali ma non può andare neanche nei mercati internazionali da solo eppure là c'è gente che quella bottiglia di vino se la comprerebbe al prezzo tre volte superiore di quanto se la compra un ristoratore anche locale e infatti là trova il vino toscano, umbro, ma qual è la differenza? Che il vino è buon buono? A volte sì ma non è quello il problema fondamentale, il problema è che in altre regioni hanno avuto dei sistemi che aiutano l'imprenditore agricolo o il piccolo imprenditore metalmeccanico a portare il suo prodotto e a non rischiare perché lui porterà il valore aggiunto nel territorio quando se fa la commessa assume e quindi abbiamo messo 15 milioni sull'internazionalizzazione. Terzo il sapere e la ricerca. Qual è la nostra forza che non abbiamo mai usato? Che se noi abbiamo un problema di qualità del prodotto abbiamo anche la forza di avere sul nostro territorio la più importante rete di università pubbliche e private, cioè dei luoghi dove si produce innovazione e quindi abbiamo ripreso i bandi per la ricerca legata alla produzione e io non so, anzi non dipende da noi perché se no uno chi si loda si sbroda, però è un fatto che dopo aver messo i soldi sulla internazionalizzazione e aver ripreso i bandi, aver pagato i debiti, in Italia l'export ha cominciato a riprendere e il Lazio è la prima regione italiana più 14% nel campo dell'internazionalizzazione e dell'export. Questo vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi? No, però vuol dire finalmente che non dobbiamo più vergognarci di essere una comunità che guarda solo la punta delle proprie scarpe. Raccontate con orgoglio perché ci abbiamo proprio messo l'anima e ringrazio i dirigenti che la notte hanno lavorato con Bruxelles mandandosi le email, questa volta noi possiamo dire che della vecchia programmazione europea che è finita nel 2013 il Lazio non rimanderà indietro neanche un centesimo perché li spenderemo tutti e il Lazio non è più il fanalino di coda ma il Lazio è fra le prime 10 regioni italiane su 20 che ha avuto la programmazione economica dell'Unione Europea della nuova programmazione subito approvata. I bandi sono partiti e complimenti se c'è qui qualcuno della Valcomino perché grazie ai sindaci della Valcomino grazie al lavoro che abbiamo fatto con la regione Lazio hanno vinto una grande battaglia. Loro sono i primi nel Lazio e tra i primi in Italia che avranno l'opportunità di usufruire di un nuovo canale di finanziamento dell'Europa, quello delle aree interne che porterà nella Valcomino 4 milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo territoriale per il lavoro questo è importante non per dire che abbiamo superato i problemi ma per dire quello che dentro il cuore a volte ci mancava di credere è che ce la possiamo fare se guardiamo la concretezza ci rimbocchiamo le maniche non siamo secondi a nessuno e con onestà merito e dedizione alla fine noi possiamo riprendere a creare sviluppo e a creare lavoro bisogna un po' di più crederci molto di più ad appassionarsi e soprattutto con onestà ad unirci per uscire per raggiungere questi obiettivi perché non è che avverrà è avvenuto perché i 4 milioni alla Valcomino gli arrivano perché sono stati bravi e hanno vinto una grande sfida. Poi presidente capita che questo territorio è particolarmente abituato a parlarsi male si dimentica delle cose fatte perché ad esempio sono anche arrivati i soldi del famoso accordo di programma accordo di programma milioni di euro per fare in modo che le multinazionali restassero qui e non sbullonassero gli impianti quei soldi siamo stati i secondi in italia a ottenere questi milioni di euro in accordo col governo nazionale con l'unione europea quei soldi materialmente sono sul territorio mi sono ricordato poi parlando di tutte queste cose perché vedo la gente così affascinata abbiamo anche marino fardelli vero tu volevi dire qualcosa marino volevi dire qualcosa posso dire una cosa su marino fatemela di perché ce l'ho qua da quando sono arrivato io marino lo ringrazio vedete perché se no questo tema leggia come quelle nuvole e non ce lo diciamo io lo voglio ringraziare perché lui ha avuto coraggio nelle sue scelte politiche per un motivo molto semplice perché in questo bellissimo ma anche maledetto paese nel quale viviamo che amiamo e odiamo se ce la vogliamo dire tutta oggi è molto ma molto più facile protestare è molto ma molto più facile stare all'opposizione si fa l'elenco delle cose che non vanno e si urla e si entra in contatto con quella rabbia che c'è nelle famiglie italiane dovuta alla volte alla disperazione e alla percezione di solitudine alla percezione che si è soli lì c'è la rabbia e tanti purtroppo che fanno politica preferiscono cavalcare questa rabbia perché mettersi a rappresentare la rabbia ti porta quei voti di preferenza di consenso che ti permettono poi di fare politica c'è un piccolo particolare però che nessuno ha il coraggio di dire a quelle famiglie che la rabbia non si mangia e che solo protestando e raccontando le cose che non vanno cosa molto facile alla fine quei problemi che ha un pensionato un precario un licenziato un disoccupato una famiglia giovane che vuole farsi casa o vuole farsi fare dei figli andare all'asilo nido beh l'elenco dei problemi quei problemi non li risolve risolve i problemi del politico che rappresentando quei problemi becca i voti molto più difficile è mettersi sulle proprie spalle il peso della difficoltà e della complessità dei problemi e provare a risolverli ricostruendo un rapporto tra stato e cittadini non perché ci sono pacche sulle spalle o promesse non mantenute ma perché cacchio io ti risolvo il problema sto là prima ringrazio il rappresentante di exos ha detto una frase che non vi fuggita dopo 12 anni abbiamo fatto le nuove tariffe sono piccole cose ma l'elenco delle piccole cose può ricostruire un rapporto sereno con le istituzioni e quindi io davanti a tutti voglio ringraziare marino fardelli perché per lui in un'epoca di crisi come questa sarebbe stato molto più semplice stare in quella grande schiera che racconta le cose che non vanno e raccoglie la rabbia ed è molto più difficile ci vuole molto più coraggio invece provare per il bene comune delle famiglie della nostra comunità dire beh proviamo a cambiare le cose lui questo coraggio ce l'ha avuto lo dico non ha chiesto niente e ha fatto una scelta di campo per la sua comunità e io di questo visto che si parla tanto di politici che pensano solo a se stessi io lo voglio riconoscere e lo ringrazierò sempre ci tenevo a dirlo marino adesso a te insomma che non ho chiesto niente non è vero caro nicola ho chiesto massima attenzione a questo territorio questo è quello che ti ho detto quello che ti ho sempre detto quando ero l'opposizione e tuttora quando sono adesso a tuo fianco in maggioranza ricordi quando insomma parlavamo all'inizio alla fine tu venivi mi vedevi dice a tu sei cassino cassino io rappresentavo cassino no è anche in senso scherzoso cassino come intendo anche una vasta comunità che oggi reclama una grande attenzione una comunità che fa leva su due grandi segmenti che sono l'impresa e il settore turistico noi chiediamo alla regione e molti cittadini associazioni rappresentanti del territorio sindaci amministratori locali tutti oggi presenti chiedono a noi regione lazio un cambio di rotta dopo tanti sacrifici in questi mesi grazie al tuo lavoro grazie al lavoro dei tuoi assessori che hai scelto veramente una squadra eccellente all'interno del panorama politico regionale oggi chiedono a noi rappresentanti delle istituzioni un cambio di rotta e questo cambio diciamo avviene a un giro di boa siamo quasi a metà consigliatura regionale e oggi i sindaci dove vai vai dove giri giri ti chiedono soltanto una speranza cioè quella di poter rifinanziare i grandi progetti che riguardano la loro comunità se fino a ieri caro nicola chiedevano come a te come a noi rappresentanti delle istituzioni di farsi vedere pagare i diciamo i lavori pregressi no già stanziati negli anni precedenti ma che poi non arrivavano i fondi oggi c'è un'inversione da parte loro chiedono alla regione dopo tanti sacrifici di cambiare questa rotta di poter programmare all'interno delle proprie comunità dei nuovi lavori lavori pubblici lavori a beneficio della collettività della della comunità di riferimento questo chiedono oggi gli amministratori locali e chiedono un'attenzione particolare a quello a quel tema che è già trattato prima che è quello un po più sentito da tutti oltre al tema del lavoro è quello legato alla sanità io ti chiedo un impegno siamo a circa 100 metri dall'ospedale di cassino alla santa scolastica abbiamo questo grande ospedale e quello che i cittadini i sindaci gli amministratori la gente comune è quello che chiede in questo momento una parola una certezza che l'ospedale non chiuda perché vedi caro nicola non è la preoccupazione dei reparti la preoccupazione dei medici ma addirittura c'è un luogo comune che si innesca purtroppo anche generato da ovviamente anche da chi fa politica in maniera contraria ha una preoccupazione forte che addirittura nell'arco di qualche anno l'ospedale di cassino chiuda e questo grazie ai numeri che tu hai enunciato poc'anzi grazie al sacrificio di tanti medici che stanno portando avanti con tanta difficoltà grazie al personale alle ausiliari a quant'altro noi dobbiamo sgomberare in un certo qual senso questo luogo comune che aleggia un po' nel territorio che l'ospedale verrà addirittura potenziato con i numeri che tu hai poc'anzi enunciato e questa è una bellissima notizia e mi permetti caro presidente a questo punto tutti coloro lo dico in primis a quei sindaci che addirittura o la leggiavano nei confronti del direttore generale come il male assoluto a questo punto ha vinto Isabella Mastrobuono e quindi grazie a te cara professoressa Mastrobuono al tuo staff che hai in certo qual modo se il presidente ha dato questo annuncio è perché i conti sono tornati a posto e perché il presidente con una grande dose di coraggio insieme alla cabina di regia ha detto che l'attenzione principale per il nostro territorio è per gli ospedali e per il nostro comune a cominciare dal santo scolastico quindi grazie per quello che hai fatto fino adesso certo non possiamo come dire cullarci certo l'hai detto anche tu prima ci aspettiamo anche altro un altro grande tema che è quello legato all'impresa vedi caro presidente quando mi sono insediato all'epoca in opposizione feci con te una battaglia insieme al consiglio regionale tutto il rifinanziamento della legge 46 non dimentichiamolo che quella grazie alla tua opera grazie al tuo coraggio e perdonami ma me ne annovero tra i diciamo i coloro che l'hanno in certo qual modo sposata fin dall'inizio perché con le precedenti amministrazioni regionali c'erano la bellezza di 50 mila euro su quella legge adesso ci sono circa 3 milioni e 700 più altri fondi che provengono da accordi di altro genere quindi c'è anche una speranza sulla leva che è quella legata all'impresa all'indotto fiat ripeto non a fiat ma all'indotto e bensì anche a quelle amministrazioni locali che questi soldi con questi fondi servono anche per mettere a posto tra virgolette la parte della viabilità rendere più accogliente diciamo il mondo accanto a fiat e questo anche in accordo con quelle imprese quelle associazioni di categoria che in certo qual modo ci hanno detto di destinare quei fondi proprio su questo segmento e questa è un'altra tua vittoria nostra vittoria del consiglio regionale tutto sul tema dei trasporti lo hai detto lo hai annunciato so che non puoi in un certo modo dire altro perché però bolle in pentola qualche altra cosa che riguarda il tema dei trasporti poi se vorrai dirlo tu in antifrima insomma la cosa sarebbe buona e giusta come dire altro tema è quello legato al settore turistico bene hanno fatto i 18 comuni della valle di comino ci sono diversi sindaci oggi presenti che si sono messi insieme hanno abbandonato delle logiche come dire anche di conflitto territoriale perché certe volte tra sindaci vicini confinanti insomma c'è anche qualche conflitto identitario e di vicinanza tra virgolette si sono messi insieme e hanno come dire agganciato il treno di un'opportunità che a livello nazionale a livello regionale si presentava e questa un po' in certo qual modo la filosofia che deve aleggiare su tutti gli amministratori della nostra provincia di Frosinone abbandonare quelle logiche abbandonare dei conflitti ma mettersi insieme anche perché una legge regionale che avremo a breve in certo qual modo cerca di andare verso questa direzione verso l'unione l'unione dei comuni e l'abolizione delle comunità montane no c'è una discussione in atto all'interno del consiglio regionale però è significativo che i comuni in certo qual modo si mettono d'accordo si mettono insieme e vanno avanti su alcune progettualità e prima l'hai enunciato tu 18 comuni no un dato non indifferente prima prima aria all'interno del del sistema paese italia si mettono d'accordo e lanciano in certo senso un un momento di di sviluppo integrato un altro aspetto è quello legato al mondo della formazione noi a Cassino oltre l'università che un fuori un po certo qual modo un fiore all'occhiello prima lo dicevamo anche con il magnifico rettore ciro attaianese dopo quello che sta facendo anche spostando l'asse con il cus per quanto riguarda anche la pratica sportiva l'anno prossimo anno avremo qui i campionati del mondo di cross country negli anni passati abbiamo avuto anche le universitarie insomma le i campionati degli degli universitari e in certo senso ci stiamo facendo conoscere però ricordiamo che siamo il campus universitario più importante del centro sud italia perché dopo roma c'è e in mezzo tra roma e napoli c'è Cassino e quello che stiamo facendo in questo lasso di tempo con la proposta di legge regionale di riordino anche del tema della formazione tema di lazio ad isu Cassino chiede a gran voce che gli uffici di lazio ad isu restino con delle competenze specifiche e restino non soltanto come uffici tra virgolette passatemi il termine passacarti di roma ma che veramente abbia un'identità che in certo modo possa far rinanciare anche il tema legato al tema degli studenti al tema del diritto allo studio e questa è un'azione che tu stai portando avanti con grande grande dispendio di energie e con sinergia anche con tutti gli attori di cui ti sei attorniato in questo in questo periodo in questi due anni e mezzo di governo regionale. L'abbiamo detto prima sul tema della sanità, vedi caro Nicola questo dobbiamo in certo modo sgombrare un po' il chiacchiericcio quotidiano che serpeggia un po' all'interno della nostra provincia. Gli ospedali sono importanti, i cittadini quando hanno un problema vanno negli ospedali, stai cercando di cambiare un po' la mentalità, cercando di andare nelle case della salute, c'è anche la situazione legata ad altri temi che riguardano il CUP, è una questione che oggi hai affrontato, anche ieri hai fatto degli incontri, un comunicato stampa, visto che c'è la presenza di alcuni operatori del settore, se poi dai anche una certezza su questo grande tema, perché serve sempre come regione a salvaguardare i posti di lavoro che oggi sono attuali. Siamo all'interno anche della nostra città, vedi caro Presidente, siamo quasi ai piedi dell'abbazia della Roccaianula, tu nei prossimi giorni ritornerai a Cassino per altri eventi e la cosa ti fa onore e io lo dico come rappresentante di questo territorio, quando vieni in provincia di Frosinone ricorda sempre con una certa attenzione particolare questa zona, questo fazzoletto di terra che è quello del Cassinate, perché insieme agli altri amministratori io ti lancio una proposta, perché non candidare Cassino nel 2021 come capitale europea della pace, capitale europea della cultura, così come altre città italiane hanno fatto negli anni precedenti, è una sfida, l'abbiamo provato nei mesi passati lanciando Viterbo come capitale europea della cultura, purtroppo non ci siamo riusciti, però perché non lanciare nei prossimi mesi, cercando anche un partenariato con tutti gli attori protagonisti, a cominciare dalle amministrazioni comunali, dalle imprese, da chi fa cultura davvero su questo territorio, con le associazioni, con i volontari per cercare di lanciare un progetto integrato di Cassino città della cultura 2021, perché ormai abbiamo già superato il 2020. Un altro tema, vedi io domani ho qui ospite, proprio qui tra noi, il Presidente di Lazio e Nova, il Presidente di Lazio e Nova che verrà a raccontarci quello ulteriormente, quello che tu prima ci hai accennato, che c'è una grande opportunità legata al tema delle imprese, al tema delle infrastrutture, piccole e medie imprese e lo ascolteremo con tanta attenzione, perché Lazio e Nova in certo qual modo ha rivoluzionato anche un sistema che negli anni passati era un po' troppo ingessato e adesso sta dialogando con le imprese, sta dialogando con le associazioni, le categorie, sta cercando di mettere a regime e sfruttare al massimo quelle che sono le opportunità che provengono dal mondo, dall'Europa, l'avevi detto tu prima, non dobbiamo rimandare più nessun euro indietro a Bruxelles e questa è una grande sfida. Sul tema dei trasporti lo abbiamo ben detto, tema della sanità anche, tema della cultura, del turismo, rilanciare il turismo, un turismo che riguarda anche il tema del sentiero bellico, la riscoperta dei sentieri della memoria bellica, anche della salute, abbiamo diversi, siamo contornati qui, vediamo diversi monti che in certo qual modo offrono anche un'offerta turistica che è diversa, da diversificare. E poi ultimo grande impegno che ti chiedo Presidente, molte volte quando la provincia litiga Roma gode, nel senso che più tante volte succede è che qui abbiamo la grande capacità di litigare sui grandi temi che riguardano il nostro territorio, non sappiamo fare squadra e dobbiamo apprendere da quei piccoli comuni, da quei 18 comuni della Valle di Comino, a cominciare da Sant'Elia, Belmonte fino ad Arriveratina, che ci hanno dimostrato che come fanno loro, dobbiamo fare anche noi, che in certo qual modo rivestiamo un impegno istituzionale a beneficio di questo territorio. Quindi certe volte dobbiamo apprendere da loro come si fa politica sui territori, perché non basta un comunicato stampa, bisogna andare sulla gente, per la gente, tra la gente, bisogna andare tra i cittadini, così come stai facendo oggi tu, che ti sei adoperato ad ascoltare diversi che hanno avuto voglia di darti, non dico dei consigli, dei suggerimenti, ma che hanno voluto parlare con il Presidente della Regione Lazio. Perché caro Nicola, tu sei la nostra speranza, io sto con te e ti, come dire, te l'ho detto il giorno che vieni nel tuo ufficio, non t'ho chiesto nulla, l'hai detto tu, mi fa piacere che questa cosa l'hai ribadita, però l'attenzione che ti chiedo, è quello che ti ribadisco, è l'attenzione nel nostro territorio, l'attenzione alla provincia di Frosinone, perché lo meritano i tanti che sono venuti oggi, i tanti che ti hanno votato l'altra volta e i tanti che ti voteranno per il prossimo mandato di Presidente della Regione Lazio. E io sarò al tuo fianco, sono al tuo fianco e voglio stare al tuo fianco. Viva Nicola Zingaretti, viva la Regione Lazio. Presidente, e no, e mo' lo voglio sapere, cos'è che gli stava scappando detto a Marino Fardelli a proposito dei treni? Cos'è quel progetto che a un certo punto si è morso la lingua? Ha fatto bene. E allora qualcosa c'è? No, ve lo dirò, però Marino ha anche raccontando questi mesi, ha raccontato anche uno stile e lo stile è quello di non vendere cose che non si hanno in tasca e quando ci si prende un impegno bisogna anche avere il rigore poi degli impegni di mantenerli. Una delle cose che ha distrutto la credibilità della politica italiana è una certa tendenza della politica o dei politicanti a dire bugie, a girare per le piazze, i paesi, a stringere le mani, a fare le promesse che poi inevitabilmente non si mantengono. Se devo dire una cosa sulla quale io mi sforzo sempre di produrre innovazione è quella di dire le cose che credibilmente si possono fare. E questo me l'ha insegnato quando sono diventato papà, un libro che mi hanno regalato, che si regala ai papà o a coloro che lo stanno diventando, anche alle mamme, ed è un libro che si chiama I no che aiutano a crescere. Ed è un bellissimo libro sulla paternità e sulla maternità che dice che se si vuole dare un futuro ai propri figli è sbagliato dire ai figli sempre sì perché poi diventano, fatemelo dire, degli insopportabili viziati che non capiscono quanto è dura affrontare il mondo con le proprie gambe e poi quando devono uscire da casa si trovano impreparati. E questo libro dice che bisogna avere un rapporto sano con i figli e a volte anche dei no aiutano a crescere perché mettono l'individuo di fronte alla verità. Questo è un po' lo stile che abbiamo noi, cioè quello di poter dire quando ci sono delle rivendicazioni sì questo si può fare o no questo non si può fare. E su il riferimento alle ferrovie di cui diceva è perché noi stiamo lavorando paccio a terra in un rapporto con le ferrovie dello Stato perché utilizzando l'alta velocità si possa arrivare da Cassino a Roma in un tempo incredibilmente inferiore a quanto ci si è messo adesso sui treni. Lo possiamo fare con una credibilità molto più grande e se non lo abbiamo ancora detto fino a questo momento è perché ancora non ce l'abbiamo in tasca. Però se glielo ho detto a lui è perché siamo ottimisti che questo obiettivo si possa raggiungere e questo sia un risultato. Ma ripeto in un rapporto leale con le persone e anche sulla sanità, sull'ospedale, sul gara group voglio dire una cosa. Vedete io l'ho notata questa cosa di chi crea paure. Purtroppo c'è una certa politica che non ha idee, che non può conquistare il consenso sulla base di idee da realizzare e quindi c'è un metodo. Quello di creare paure e poi rappresentare queste paure. E se poi si è successo dire oh non è successo grazie a me. Il tema della chiusura dell'ospedale di Cassino è una balla totale, totalmente inventata, non fondata su nulla. Anzi a chi lo dice il chiacchiericcio io rispondo una cosa molto semplice. Che la vera rivoluzione dopo 8 anni di commissariamento pensate è che noi finalmente dopo 8 anni di commissariamento abbiamo fatto due atti di programmazione che il Lazio non aveva mai fatto. I piani operativi e gli atti aziendali. I piani operativi, una battuta perché bisogna capire di che cosa stiamo parlando, sono l'atto programmatorio madre. Cioè la Regione dice nei prossimi 3 anni noi vogliamo una sanità che ha questo programma e sulla base dei piani operativi le ASL fanno gli atti aziendali, la loro programmazione. A dicembre finiscono gli atti aziendali che abbiamo approvato per la prima volta in 8 anni e poi ora dobbiamo lavorare sui nuovi piani operativi e i nuovi atti aziendali. Come è possibile leggere? Quei piani operativi e quegli atti aziendali stanno non solo non chiudendo più ospedali e non chiuderanno più ospedali, ma anzi stanno nella ciociaria in tutta la provincia aumentando i posti letto, aumentando il personale e aumentando gli investimenti. Certo con una progressione per un motivo semplice, perché siamo commissariati e quindi ogni 3 mesi ci fanno l'esame e vogliono vedere se a quantità di risparmio coincide quantità di investimenti. Ma perché noi dobbiamo superare uno stallo, una situazione di criticità per cui siamo stati e oscillavamo tra quelli che dicevano chi se ne frega del commissariamento, facciamo tutto, spendiamo tutto, poi quando facevamo ogni 3 mesi l'esame lo Stato chiudeva il rubinetto e dal 2012 non prendevamo una lira, un euro, oppure chi diceva basta, rigore, bisogna abbassare i costi, però non è che chiudevano gli sprechi o con la centrale acquisti si ottimizzavano gli acquisti, si tagliavano i posti letto e poi mi dispiace dirlo, ma ogni tanto qualche cosa amara bisogna dirla, nella nostra regione per troppi anni si sono tagliati solo i posti letto e troppe volte si sono tutelati le baronie di tanti primari che avevano in alcuni posti della capitale, anche primariati con due posti letto perché quel livello non si poteva toccare, noi abbiamo voltato pagina e abbiamo detto lì dove c'è bisogno e soprattutto nelle province i posti letto vanno aumentati e li abbiamo e li stiamo aumentando e gli sprechi e il taglio finanziario non deve più avvenire sull'offerta della cura ma su la capacità di risparmiare tagliando gli sprechi e questo sta avvenendo e quindi io dico non solo non c'è pericolo per l'ospedale, ma mi permetto di dire perché io parto ora, stavo qui due giorni fa, ritorno al 25, quindi io frequento queste terre, però è molto importante per cambiare le cose che si percepisca nei territori, che certe chiacchiere, certi metodi di chi crea le paure e indica i responsabili e si candida per rappresentarle, ma poi in realtà è tutto finto, avverta anche che siamo tutti stanchi di questi parolai perché sono costati alle nostre comunità, sì, pacche sulle spalle, promesse, ma poi ripeto la tragedia di 8-9 anni di commissariamento sanitario, tanti anni che ce lo siamo pure dimenticati, oggi chi ha 20 anni era bambino quando abbiamo cominciato il commissariamento, una follia e sapete perché è una follia, perché il blocco del turnover che ci porta, ripeto, ad assumere solo il 10% di chi esce, è una tragedia per la sanità, ma è una tragedia soprattutto per il Lazio, perché noi qui abbiamo 5 policlinici universitari, cioè il Lazio forma il 30% circa del personale sanitario italiano, ma non potendoli assumere noi, perché su 100 che escono solo 10 ne possono assumere, noi siamo da 8 anni nella follia che paghiamo e formiamo giustamente con i policlinici il personale sanitario, che poi però si fa assumere, giustamente perché chi deve farsi una vita va dove c'è il lavoro, in altre regioni, con i sordi nostri e questo non l'hanno mai raccontato, perché ogni anno non si aveva il coraggio di aggredire i nodi della spesa, dell'abbassamento del costo del disavanzo e dell'uscita dal commissariamento, quindi noi avevamo la doppia beffa, una forte precarizzazione, i precari più bravi nelle corsie dopo 7-8 anni vengono presi dall'Emilia, dalla Lombardia, dalla Toscana, cioè da chi può assumere e i ragazzi e le ragazze uscite dai policlinici che stanno dentro la rete del diritto allo studio regionale, usciti non avendo prospettive nel Lazio, condannando una nuova generazione di medici alla precarietà infinita che se ne andavano. Io sono contento, ma non è merito mio, per questo lo dico, è merito di una grande squadra di poter dire dopo due anni e mezzo di lavoro questa stagione è finita, stiamo uscendo, stiamo riassumendo, stiamo reinvestendo e a chi dice il contrario io dico questa stagione anche delle bugie è finita, perché invece la rete sanitaria si sta ricostruendo e anche sui servizi CUP, io lo voglio dire perché so che c'è molta preoccupazione, ma anche quella preoccupazione è figlia di una campagna di informazione non vera, io ho letto 2000 disoccupati, 2000 licenziati, neanche ci fosse Dragula a governare la regione Lazio, se noi abbiamo fatto un bando per un servizio che parte, quello della prenotazione, perché per legge va fatto un bando di gara, sorvegliato e controllato dall'autorità nazionale anticorruzione che ha fatto le proprie contradduzioni e dentro quello che è capitolato d'appalto è scritto che la regione può anche sperimentare servizi innovativi nel campo dell'offerta che vadano oltre la prenotazione e quindi sono giorni che diciamo e lo confermo, noi ci impegniamo affinché nessun lavoratore o lavoratrice degli attuali servizi CUP venga licenziato quando ci sarà il cambio gara e ci impegniamo ad accompagnare questo cambio di appalto con l'impegno etico, materiale e di investimenti sull'innovazione affinché si possa coniugare la trasparenza e la legalità col diritto al lavoro. Abbiamo gestito 45 cambi di appalto, lo faremo anche per questo servizio perché vogliamo migliorare e state nei certi non lasciare nessuno per strada. Non è semplice, non è semplice, è molto difficile, ma è anche la cosa più bella che può accadere per chi oggi è impegnato in un'istituzione, nel momento più drammatico della storia della Repubblica dimostrare che si può riprendere la speranza in un futuro diverso e io l'ho vista questa speranza nei volti dei sindaci della comunità di Valcomino. Vengo ora da Aquino dove abbiamo visto gli scavi e ci siamo impegnati a Castrocello, ad Aquino, ad investire affinché quel polo archeologico diventi un polo attrutturistico attrattivo per questo territorio. Lo vedrò a Cassino fra qualche giorno quando faremo un'altra inaugurazione. Tutti i fatti che, ripeto, non ho la presunzione di dire abbiano risolto tutti i problemi, ma permettano dentro ognuno di noi, con le nostre angosce, con i nostri problemi, di dire che qualcosa è cambiato e stavolta è cambiato in meglio. E se queste occasioni diventano 10, 100, 1000, potremmo dire che insieme ce la stiamo facendo, che poi è l'unica cosa che voglio fare in questo mio mandato, mantenere una promessa che dopo 5 anni questa nostra benedetta regione sarà una regione un po' più giusta, un po' più trasparente e un po' più competitiva, quindi con un po' più di lavoro. Sembra poco, ma se ci riusciamo insieme avremo fatto una mezza rivoluzione. Grazie. Fermo lì, Presidente, perché facciamo come prima a questo punto. Ho capito bene sulla linea TAV, i treni per i pendolari, l'interconnessione? Non cominciate a mettermi in bocca cose che non ho detto. E non ho capito bene. Ha detto che nel nuovo contratto di servizio, dopo gli investimenti che abbiamo fatto e che faremo, quelli al 100%, per aumentare i treni e tutti nuovi, abbiamo aperto un confronto con le ferrovie, l'ente gestore, affinché quella linea possa essere utilizzata per offrire un servizio che oggi non c'è e portarvi a Roma, non so in quanto, ma a naso, nella metà del tempo che ci serve adesso. Telegraficamente, Presidente, ci sono tantissimi dipendenti delle province. Vogliono sapere quando deciderete quali sono le competenze della regione e quali le competenze delle province? Dobbiamo farlo entro il 31 ottobre. Grazie a Nicola Zingaretti, grazie a voi tutti, buona serata.